ciao a tutti e bentornati allora oggi sono incappata in una live di chiara il titolo era vergognati delinquente e manca dirlo sono andata subito ad ascoltare cosa stava succedendo beh non ci crederete mai ma quanto pare chiara ha sporto denuncia nei confronti di giuseppolo e come ho capito se ho capito bene anche nei confronti di veronica la compagna di giuseppolo ma andiamo con ordine che vi racconto l'episodio che ha portato a questo epilogo allora chiara e davide erano andati a fare la spesa a lidl finita la spesa si sono approssimati all'uscita la preceduta davide perché nel frattempo era andato a recuperare l'auto nel parcheggio e chiara si è soffermata a guardare le locandine con le offerte che sarebbero state poi proposte al pubblico nelle prossime settimane all'uscita del supermercato si è ritrovata davanti veronica che era lì intenta a chiedere le lemosina chiara l'ha riconosciuta subito poi l'è passata davanti e sembra che a quel punto veronica le abbia rivolto un saluto lei ha titubato un attimo poi ha risposto con un secco ciao a seguito di questo saluto tra le due donne sembra che giuseppolo che era poco distante abbia riconosciuto la voce di chiara e si sia avvicinato alle donne lanciando uno sguardo su chiara dapprima in pietrito e poi come in una sorta di adorazione lei a tutto ciò ha provato solamente schifo questo punto lei si avvia verso il parcheggio dove la raggiunge davide con l'auto e giuseppolo sembra che a questa vista inizia a dare di matto segue chiara nel parcheggio ed urla con impeto il nome il cognome di chiara in questo parcheggio tanto che lei si affretta a salire in auto con con davide e entrambi tirano subito su i finestrini per evitare un eventuale contatto dato che sia giuseppolo che veronica si stavano frettolosamente avvicinando alla loro auto a vedere questo gesto pare che la situazione sia anche peggiorata perché sia veronica che giuseppolo hanno iniziato ad inveire con più ferocia non è ancora soddisfatta veronica sembra che si sia avvicinata al finestrino di chiara e abbia sputato nel finestrino ora cos'è successo i due sono riusciti a partire con l'auto e data la situazione si sono diretti alla prima caserma di polizia di carabinieri ed hanno denunciato la faccenda a riprova di ciò sembra che chiara abbia postato sul suo instagram la denuncia fatta presso i carabinieri quindi questa sua live ha una doppia valenza da un lato perché voleva condividere con la sua utenza l'accaduto e dall'altro per comunicare in modo diretto pubblico a giuseppolo e veronica che sono stati denunciati sia da lei che da davide ora chiuso il capitolo denuncia lei inizia a fare tutta una serie di ipotesi anche sul fatto che la voce in giro che davide fosse un pantofolo l'abbia messa in giro proprio giuseppolo ora qualcuno potrebbe chiedere e perché poi giuseppe avrebbe dovuto fare una cosa del genere beh lei si dà una semplice e chiara spiegazione e cioè il fatto che giuseppolo vedendola felice con davide ha voluto in qualche modo scalfire questo loro idillio questa loro felicità quindi il movente di tutto questo per lei sarebbe la gelosia e qui non perde occasione per proporre il solito pippone sull'invidia l'invidia delle persone nei loro confronti ora secondo lei perché li invidiano sia lei che davide perché loro sono felici perché loro hanno successo perché loro trattanti riescono a mantenersi con le entrate di youtube perché lei ha le borse di filomena amore perché davide c'ha le felpe con i coni lupi perché hanno la cantina piena di fango pop cioè vabbè avete capito no insomma potrebbe andare avanti all'infinito però direi che anche no il delirio di onnipotenza continua sia oramai impossessato della sua anima e inizia a lanciarsi in altre diverse diverse ipotesi e c'è quella del fatto che le persone li odiano perché è colpa di giuseppolo perché ha messo in giro tante bugie su di lei e quindi le persone la odiano ora a me viene un dubbio ma non è che prima avevano successo adesso li odiano com'è sta storia qua la cosa cambia da un momento all'altro a questo punto mi meraviglia il fatto che non abbia comunque continuato su questo filone e abbia iniziato ad inveire contro gli haters di merda i canali di scolo che tutti vivono sulle sue spalle e non se ne può più allora in conclusione di questo breve video perché poi comunque il più spero di farlo con voi nei commenti sotto questo video stesso volevo chiedervi per come conoscete voi chiara no soprattutto quelli che seguono da più tempo chiara il suo canale secondo voi la versione raccontata da chiara è quella autentica o l'ha un po' modificata secondo voi a me sembra strana sta cosa qui a me mi sembra un po' strana sta faccenda qua un po' come la faccenda delle email con le foto biricchine definiamole così poi se avete voglia mi lasciate un commento sotto questo video e insieme magari cerchiamo di venire a capo di questa nuova tragedia nel frattempo io vi saluto vi auguro buona continuazione di serata vedo appuntamento al prossimo contenuto un bacio a tutti da gossip